Come inserire un C-Bot in un grafico? Semplicemente selezionate lo grafico sul quale si vuole inserire, si va sulla barra in alto con tutte le icone e si troverà l'icona appunto di un robottino. Da qui si potrà cercare e inserire il robot appunto che si vuole far girare all'interno del grafico. In questo caso attiviamo il training panel e da qui possiamo inserire le varie impostazioni, fare poi applica e comparirà il nostro robottino appunto qui in basso a sinistra. Non sarà subito attivo, bisognerà cliccare qui su avvia C-Bot sul pulsante verde per attivarlo. Cliccando invece con un tasto destro sul nome si potrà modificare i parametri o rimuovere da questo grafico. Oppure si può anche avviare in un processo esterno oppure si può trovare mostra e registro. Grazie.